Ciao a tutti e bentornati nella nostra officina dei 50 Docs. Dietro di me questo Ciao C9 che abbiamo acquistato appena a Milano. Siamo molto orgogliosi perché il primo C9, una piccola informazione per voi, C9 sta per le ruote da 19 e il colore è originale al 100%. Purtroppo il venditore ci ha avvisato che il Ciao non parte. Dato che non aveva mai tempo, adesso tocca a noi. Questa è l'occasione ideale per portarvi con noi nel nostro tour della ricerca del problema e come rimetterlo in moto. Secondo la nostra esperienza nel 99% dei casi, controllando questi punti, il nostro Ciao e il vostro Ciao in teoria dovrebbe ripartire. Se il vostro Ciao non parte ancora dopo aver controllato tutti questi punti, abbiamo qualche consiglio più complesso alla fine di questo video. Ah, e prima che ci dimentichiamo, questi punti valgono per tutti i modelli di Ciao. E prima di iniziare a smanettare su questo Ciao, partiamo con una cosa molto fondamentale. Il motore che è montato su questo mezzo è un motore a scoppio a due tempi. E come ogni motore a scoppio all'interno del gruppo termico, ci devono essere tre cose. A, la scintilla nel momento giusto. B, una compressione. E C, un po' di combustibile. Questi sono i tre capitoli di questo video. Partiamo con il primo, impianto elettrico. La prima cosa che andiamo a fare è smontare il fianchetto sinistro. Sotto il fianchetto sinistro trovate o il variatore o la frizione e dietro alla frizione trovate il volano. Qui, se spostate o girate il volano, prima o poi vi sbuca un gommino. Qui vi fermate e lo togliamo. In pratica, in questo stato è possibile registrare le pontine. Noi, per facilitare il lavoro, consigliamo di togliere o la frizione o il variatore. Abbiamo smontato la frizione, adesso portiamo in vista la finestrella. Qui sotto vedete le puntine. Prendete un cacciavite e schiacciate in basso la puntina. Infilate la vostra carta vetrata, rilasciate la puntina e tirate fuori la carta vetrata. Questa operazione la fate tre volte in basso e tre volte in alto. Ora vi facciamo vedere come si registrano le pontine. Con il volano andiamo a cercare il punto dell'apertura massima delle pontine. Con il cacciavite apriamo questa vite e andiamo ad aprire in alto la puntina. Infiliamo lo spessimetro 0,4 mm e chiudiamo nuovamente la vite. Adesso estruiamo lo spessimetro. Giriamo un attimo il volano e con il spessimetro andiamo a ricontrollare se entra. Deve avere il minimo di resistenza. Perfetto. Con questa operazione abbiamo escluso due malfunzionamenti. Puntine ossidate o mal impostate. La prossima cosa che andiamo a fare è il rimontaggio delle componenti. Dopo il rimontaggio siamo pronti per il primo controllo. Per il nostro controllo stacchiamo il capicorda che va alla bobina. Lo trovate qui sotto o qui sul lato. Lo andiamo a prolungare con un cavo, un cavetto. Qui assicuratevi che la candela è staccata e portate il cavo sulla testa. Facciamo girare il motore. Ecco qui la nostra scintilla. Come avete appena visto, noi siamo fortunati e abbiamo una scintilla. Se voi la scintilla non ce l'avete, occorre smontare il motore. Dovete anche smontare il volano e revisionare la vostra accensione. Andiamo al prossimo passo. Andiamo a controllare la bobina esterna. Ricolleghiamo il capicorda alla nostra bobina. Per togliere ogni dubbio, andiamo a montare una candela nuova. Ora rifacciamo il test della scintilla. Qui, attenzione per non prendere una scossa, prendete la candela per il cappuccio, portatelo alla testa del motore e fate girare il motore. Bene, dopo questa scintilla blu come il mare, siamo pronti per il prossimo capitolo. La compressione. Per controllare la compressione, girate a mano il variatore o la frizione. Contemporaneamente con la vostra mano sinistra, tirate e rilasciate la leva del decompressore. Qui il controllo. Tirando la leva del decompressore, il motore dovrebbe girare più facilmente. Nel nostro caso sentiamo una grande differenza e siamo pronti per il prossimo capitolo. Il combustibile. Per metterci mano, giriamo il nostro ciao. Ora, in questo capitolo, andiamo a controllare tutto il circuito del combustibile. Vuol dire rubinetto benzina, filtrino benzina e carburatore. Prima cosa da fare, chiudere il rubinetto benzina e togliere il tubo. Ora riapriamo il rubinetto e guardiamo se arriva benzina. Nel nostro caso siamo a posto e rimettiamo il tubo. Se nel caso non dovesse uscire miscela, smontate il vostro rubinetto benzina e pulite il filtrino all'interno. Ora togliamo il coperchio. Se avete un prima serie, come in questo caso, occorre smontare anche questa staffa. Qui adesso troviamo il filtro dell'aria, il carburatore e qui sotto il filtrino della benzina che adesso andiamo a pulire. alzando questo coperchietto qui sotto troviamo il filtrino della benzina. Ora controlliamo, come in questo caso, che il filtrino sia pulito. Smontiamo il filtro dell'aria. Qui controllate che il vostro filtro è pulito, altrimenti lo pulite. Avendo pulito il filtro dell'aria, adesso passiamo al carburatore. Con un cacciavite a taglio andiamo a sfiliare la ghigliottina. Con una combinata da otto andiamo ad aprire questa vite. Qui potete aiutarvi con un piccolo cacciavite a taglio infilandolo qui in mezzo. Adesso il carburatore è libero e lo sfilate lentamente. Smontato il carburatore, lo giriamo ed apriamo le due viti della vaschetta. Bene, ora sfiliamo la vaschetta. Ora andiamo a smontare il getto e il galleggiante. Versiamo un po' di benzina e con un pennello andiamo a pulire la nostra vaschetta. Andiamo anche a pulire il carburatore. Ora andiamo a fare la prova del 9. Andiamo a vedere attraverso il nostro oggetto. Già che ci siamo diamo anche una soffiata all'interno del carburatore. qui ancora un consiglio nostro prendete un pezzo di filo di ferro e inseritelo in questa canaletta. Mi raccomando il filo di ferro inseritelo solo dalla parte superiore. Pulito il nostro carburatore passiamo al rimontaggio. e inseritato al rimontaggio. a questo punto apriamo il rubinetto e ora è arrivato il momento di pedalare. Mi raccomando ragazzi ricordatevi di tirare l'aria. direi per questa volta abbiamo fatto un ottimo lavoro. Adesso gli ultimi due consigli. La prima cosa che potete andare a vedere è che la marmita non sia tappata. In questo caso smontate la marmita e provate ad accendere il ciao. Secondo consiglio se non sapete quanti decenni ha la miscela cambiatela. E se il vostro ciao ancora non è partito portatelo da noi e compratemi una vespa. non posso dire e se vi siamo stati d'aiuto e volete vedere di più mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e lasciateci un like. Ciao!